due parole mi presento velocemente ricopi il ruccio appunto come armando anticipato retail business account business director del mondo retail seduta tra voi anche se in maniera virtuale c'è una collega che lavora con me condivide come la responsabilità che giovanna sbrissa allora nei prossimi dieci minuti il mio obiettivo consentitemi soltanto di interrompere per il safe harbor perché sapete che essendo noi un'azienda americana quotata lo devo lo devo passare l'avete visto direi andiamo pure avanti dicevo il mio obiettivo nei prossimi dieci minuti è rispondere a questa domanda che è la domanda che mi è stata data durante l'intervento cioè adottare una piattaforma tecnologica perché e quindi l'obiettivo forse se volete scendere un pochino di un livello rispetto a quello che hanno detto prima ornella e stefano no che sicuramente hanno settato un contesto estremamente interessante e provare a rispondere un pochino al so what no quindi e quindi ci sono c'è questa trasformazione in atto c'è questa trasformazione in corso e vorrei farlo partendo da un'area dove le aziende retail di tecnologia hanno già investito hanno già investito molto che è l'area del crm voi le vostre aziende nel crm nel mondo retail hanno speso hanno fatto gli investimenti nell'ambito crm marketing automation e commerce per fare cosa per valorizzare il cliente l'interazione del cliente con un ingaggio omnicanale consistent data driven e questo però ha portato a un fenomeno ha portato al fenomeno che poi la pandemia su questo punto di vista ha aiutato no e i touch point con il cliente sono aumentati in maniera incredibile oggi l'occasione che i vostri impiegati hanno diciamo di venire in contatto con un cliente è aumentata si è moltiplicata è molto meno definita anche per cui vediamo il customer service che in realtà poi magari ha una funzione di vendita o che a volte l'ha detto vendita che fa una funzione di customer service e poi il cliente compra su e-commerce quindi la tecnologia deve garantire un'agilità organizzativa e contemporaneamente garantire un aumento delle competenze no e l'altra l'altro l'altro elemento importante e mi rifaccio un pochino a quello che che diceva ornella no è che parlava di già l'experience ecco la digital experience oggi dove è stato fatto l'investimento per digitalizzare per fare la trasformazione lo abbiamo detto prima sul mondo crm sul mondo diciamo lato cliente in realtà però la digital experience per funzionare bene dal nostro punto di vista deve essere un concetto pervasivo un processo consistente e continuo e quindi è tutta la catena del valore che deve essere consistente in altre parole chi oggi guarda our day lo fa perché vuole offrire ai propri dipendenti lo stesso tipo di esperienza che sta cercando di offrire ai propri clienti no e quindi un'esperienza personalizzata un'esperienza omnicanale basata sul self service e basata sui dati e poi c'è un altro aspetto da tenere in considerazione che anche qui mi rifaccio a quello che diceva stefano che è cambiato anche il rapporto tra quella che è l'azienda e il dipendente oggi i dipendenti ed è una tendenza che è iniziata prima della pandemia poi probabilmente con la pandemia adesso abbiamo le grandi dimissioni però l'evoluzione del rapporto tra l'azienda e dipendente è cambiato i dipendenti oggi considerano si pongono un po quasi come dei clienti no e quindi le aspettative il tipo di ingaggio è quello allora con queste presupposti qual è il qual è forse il il passaggio tecnologico da fare che non è soltanto una questione di tecnologia abilitante ma è anche l'approccio lo sguardo con cui forse guardare a alla trasformazione che sta avvenendo nel mondo dei delle piattaforme di human capital management una volta si parlava di sistemi di gestione lì hr oggi probabilmente questo concetto queste parole non sono più adeguate al cambiamento che ci hanno descritto stefano e ornella oggi forse la tecnologia di riferimento e l'approccio di riferimento è quello del del mondo del crm quello del mondo del customer engagement perché sempre di persone sempre di consumatori sempre di di un certo tipo di bisogni stiamo parlando di massimizzare il risultato di questi bisogni e trovo particolarmente interessante il parallelo che poi stefano ha fatto riferendomi a questo sul fatto che le hr devono diventare tech lovers no questo percorso è stato fatto probabilmente qualche anno fa dai vostri colleghi del marketing che hanno dovuto per poter seguire l'evoluzione del mercato fare scendere a patti con la tecnologia interessarsi di tecnologie capire la tecnologia come un abilitante e allora noi come stiamo aiutando a a fare questa trasformazione no a una trasformazione che non vuol dire passare da un punto a un punto b ma vuol dire riuscire a intraprendere un nuovo percorso che ha come paradigma l'incertezza e quindi che per definizione deve mantenersi agile deve mantenersi aperto ai cambiamenti lo stiamo aiutando basandoci stiamo aiutando l'azienda basando su due elementi fondamentali la tecnologia e poi vi dico qualcosa di più e anche il dna ed è il dna forse quello che vi può aiutare meglio perché pensate che world è un'azienda nata nel 2005 quindi se voi la mettete da un punto di vista di generazione è una generazione z è un'azienda che nasce già in questo mondo e è un sistema pensato per un mondo che cambia in cui la user experience è al centro di tutti i processi i processi sono importanti perché tutti i processi dello human capital management devono avere un inizio e una fine devono funzionare ma sono importanti ma ma molto più importante è una user experience consistente ed è questo l'idea con cui è stata è stato disegnato world da zero mettendo l'esperienza utente al centro di tutti i processi un'ultima parola forse sul mondo del retail ecco siamo diciamo nelle prime nelle prime 50 aziende forti in retail noi siamo utilizzati come world in circa 30 e siamo nelle in duecento delle prime 500 sempre nell'ambito forte un retail che cosa facciamo per questi signori cosa fa world day world day è una piattaforma una soluzione copre tutto il ciclo di vita dell'impiegato i processi e qui credo di non raccontarvi nulla di nuovo no è il vostro mestiere di giorni sono quelli tradizionali da un punto di vista del mondo di human capital management quello che è differente non è il cosa ma è il come ed è per questo che la tecnologia ricopre un ruolo fondamentale per abilitare il cambiamento perché è lì che si vede che fa la differenza allora tutti i processi si basano su un'unica piattaforma non stiamo parlando di processi connessi stiamo parlando di processi che nascono nello stesso punto che si appoggiano su un'unica piattaforma e alimentano il sistema arricchendolo di informazioni ripeto torno quel paradigma del crm che in qualche modo mi è molto caro perché so che su quello le aziende retail hanno sono forse un po più avanti e quindi mi viene comodo anche per trasferirvi certi contenuti l'obiettivo è massimizzare il valore delle interazioni dell'esperienza basatoci sempre sui processi consistenti ma è questo che fa la differenza e consentitemi due parole sulla piattaforma la piattaforma è basata su un unico modello dati ok quindi quando vi dico che i processi nascono nello stesso punto e tornano nello stesso punto arricchendolo è che non stiamo parlando di fonti dati diverse eterogene che devono scambiarsi informazioni no le informazioni i processi nascono lì e tornano lì e è una piattaforma agile che al suo interno contiene la possibilità di modificare i processi come interfaccia no code e quando parlo di modificare i processi non sto parlando di approvazioni sto parlando di processi veri e propri modificare un processo di recruiting un processo di onboarding tutti i processi sono sono modificabili l'ultimo elemento che mi interessa trasferirvi è è la il fatto che all'interno della piattaforma ci sono capacità analitiche e il tema data driven oggi è al centro della trasformazione digitale è uno dei pillar della trasformazione digitale è il fatto di avere all'interno di una piattaforma transazionale anche il dato analitico è un abilitante fondamentale per spostare il ruolo dell'hr veramente verso un business partner perché sono in grado di capire dove vuole andare l'organizzazione di aiutare e supportare il business con dei dati che sono real time e non solo sono anche in grado a partire dal dato dal dato di navigarci dentro e di prendere una decisione scatenare un processo a partire dal dato all'interno del sistema è per questo che la tecnologia non è un di cui perché poi tutto il tema dell'esperienza della consistenza e della 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 significatività dell'esperienza utente si basa su una piattaforma solida che permette un ingaggio omnicanale e cosa abbiamo quali sono le aree di impatto cioè chi ci sceglie chi sono i nostri clienti che cosa che cosa ci dicono che cosa ci raccontano noi abbiamo circa 4 mila clienti nell'ambito human capital management qualche centinaio nell'ambito retail prima vi ho dato i numeri nell'ambito della di di fortune no quali sono le quattro aree di impatto ma allora dell'esperienza abbiamo parlato no abbiamo parlato in maniera anche abbastanza abbastanza dettagliata e l'unica cosa che aggiungerei è la capacità di essere omnicanale e quindi sostanzialmente di offrire lo stesso tipo di esperienza con gli stessi contenuti e gli stessi processi sia su un tablet sia su un computer sia sul mobile attraverso un'app l'efficienza perché ovviamente essendo un'unica piattaforma dove tutti i dati stanno insieme io sono in grado di fare di armonizzare di autotematizzare i processi e quindi di portare a casa efficienza non solo un'altra caratteristica di word day molto simile ai sistemi consumer con cui oggi avete a che fare è il fatto che è sostanzialmente una piattaforma che si basa il più possibile sul site service e quindi gli impiegati tendono a servirsi no dei propri dati amministrativi a modificarli a servirsi del learning no e qui mi rifaccio l'esempio di stefano sul fatto di quanto è fuori moda fare un corso in aula oggi no no e quindi fondamentalmente questo è il secondo il secondo la seconda area d'impatto su cui aiutiamo diciamo le aziende retail il tema inside quindi la capacità poi sostanzialmente di fornire dei dati in real time che permettono al business e all'hr di prendere decisioni il business sta continuamente ridisegnando i process sta continuamente disegnando dove va l'azienda e la capacità di avere dei dati significativi a supporto di prendere delle decisioni vedere immediatamente l'impatto di quelle decisioni mi permette di capire di analizzare di ripianificare e di prendere delle decisioni per massimizzare il valore di un asset che sono le persone e l'ultimo elemento è l'agilità l'agilità perché perché una piattaforma che per come vi ho raccontato mi aiuta ed è in grado di modificare i processi è in grado di sostanzialmente adeguarsi al cambiamento del business e è una piattaforma che si adegua a dove sta andando l'azienda che mi permette che che mi che che diventa un abilitatore anziché un ostacolo no se volete sempre rifacendomi a quello che diceva stefano sul fatto che la tecnologia da una parte il problema dall'altra la soluzione e qui è dove la tecnologia è una soluzione perché non è un freno non è un freno al processo di innovazione al processo di cambiamento dell'azienda vorrei solo concludere il mio intervento facendovi vedere qualche numero nel senso che noi lavoriamo con i clienti ci sediamo vicino a loro come vi dicevo è il nostro dna è un dna che vuole trasformare vuole aiutare le aziende a trasformarsi e chiediamo loro quali sono i loro obiettivi e poi cerchiamo di capire con loro quali sono gli obiettivi che hanno raggiunto qui non vorrei raccontarvi tanto di clienti che lo hanno fatto ma vorrei provare a spingere una riflessione cioè provate a pensare che cosa vorrebbe dire avere l'80 per cento della vostra forza vendita in negozio che utilizza un sistema mobile per tutti i processi human capital management per chiedere ferie per i turni per richiedere un'approvazione per fare una nota spese caring ha raggiunto questo obiettivo però provate a pensare a come cambierebbe il vostro ruolo come cambierebbe la vita della vostra azienda come cambierebbe la vita dei vostri dipendenti a che abilitatore potrebbe essere oppure andando alla reportistica mi è impressionante il dato di haros no che è riuscito a tagliare del 70 per cento il tempo necessario per fare report e provate a pensare se voi avesse questa capacità di tirare fuori i dati significativi in pochissimo tempo e riuscire a fornire al business delle informazioni che magari il business in quel momento non ha che sono basate su dati e a fornire e a vedere le simulazioni e a capire che cosa cambia di fronte a determinati scenari e in questo senso ripeto volevo farvi vedere questa slide perché oppure ecco un'altra cosa per come si sta trasformando o per come sta evolvendo il retail il fatto di riuscire a creare una nuova struttura di negozio da durare il tempo da 12 settimane una settimana come ha fatto meyer che alla fine è una catena di supermercati del michigan no però tutti questi sono sono elementi che ci vengono dai nostri clienti e che vorrei che fosse uno spunto di riflessione per voi per capire poi quando la tecnologia viene usata in un certo contesto viene abilitata quali possono essere poi gli impatti che sono poi impatti di business io con questo vi ringrazio e spero di aver sollevato un po il vostro interesse e un po di vostra curiosità guarda Enrico assolutamente se vuoi provare a togliere la condivisione magari faccio così ti faccio ridere perché mentre stiamo facendo questo webinar c'è uno dei partecipanti che mi ha mandato una fotografia di un cinema famoso qui a milano che si chiama plinius è divertente perché c'è un bel monitor che dice il computer assegna i migliori posti e come come alludere no il fatto che tu usi la bigliettaia per erogare biglietti invece invece per l'accoglienza è il computer e questo fa un po ridere no adesso il cinema come metafora di retail se vuoi effettivamente è qui il crinale no tra essere eh tech lover e tecno fan magari magari in quel caso il cinema pensava di essere moderno no nel mettere la tecnologia e invece ha tolto l'empatia magari questo può essere uno spunto per una considerazione ecco sempre su questo rapporto tra tecnologia e persone vuoi commentare così da questa battuta sì no è molto assolutamente interessante e puntuale no ma è esattamente questo il paradigma nel senso che alla fine la differenza la fanno sempre comunque le persone e anche dietro una mail ben mandata o dietro un acquisto di commerce riuscito bene no c'è qualcuno che ha disegnato un'esperienza che l'ha abilitata che ha riempito un magazzino che ha fatto in modo che la cosa succedesse nel momento giusto e quindi da questo punto di vista è questo che io intendo quando dico quando dicevo prima mettere le persone al centro del user experience e le persone al centro dei processi perché solo così si abilita la vera trasformazione digitale altrimenti sto semplicemente fornendo uno strumento per fare il lavoro più velocemente che sì certo è comunque già qualcosa però però non sto cambiando l'approccio mentale e quindi forse non sto inseguendo il cliente dove il cliente vuole che io sia e poi alla fine lo sappiamo che soprattutto per le aziende del consumo è il cliente che guida la tendenza